La Puglia torna in zona gialla già da domani, giovedì 11 febbraio. La comunicazione ufficiale arriva a seguito di una riunione straordinaria della cabina di regia del Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità, in cui sono stati rivisti i dati pugliesi sul contagio, sulla base delle richieste di correzione avanzate dalla regione stessa, che chiedeva principalmente di rivedere al ribasso i dati sui nuovi casi e aggiornare i numeri sui posti letto di terapia intensiva liberi, inserendo 100 posti letto in più. Il Ministero della Salute ha quindi accolto la richiesta di correzione inviate dall'assessorato alla sanità. Si è trattato di una discussione molto tecnica, spiega l'assessore alla salute Pierluigi Lopalco. Abbiamo fatto capire al Ministero che quei posti erano attivabili in qualsiasi momento. Quanto al trend, il Ministero registrava un aumento dei casi del 2%, noi abbiamo invece fatto notare che quell'aumento settimanale non incideva sul trend mensile che invece è in discesa. La cabina di regia ha perciò accettato le richieste della regione, che ora passa dalla zona di rischio alto di diffusione del contagio a quella di rischio moderato, portando così la Puglia dall'arancione al giallo. La decisione regala un vero e proprio sospiro di sollievo ai ristoratori pugliesi e agli operatori degli esercizi pubblici, che potranno finalmente riaprire i locali dalle 5 alle 18 con consumazione ai tavoli. Dopo le 18, consentiti solo consegne a domicilio e a sporti, i musei potranno rimanere aperti dal lunedì al venerdì, tranne nei giorni festivi. Il coprifuoco in zona gialla resta tuttavia attivo. Non si può uscire di casa tra le 22 e le 5, salvo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute con autocertificazione. Grazie a tutti.